...dall'angelo II Luca In quel tempo si afficinavano soprattutto i pubblicani e gli accatori Per fare qualcosa, bisogna diventare grandi o bisogna essere grandi? Per sé, potrebbe essere presto la prevedenza stasera davanti a una persona che non è diventata grande Ha messo poco, però probabilmente il Signore ci insegna che non è, posso aspettare di diventare grandi Perché ci sono magari persone che sono grandi Iniziali, siamo fratelli affettuosi e le persone a cui si avvicinano Che annunciano l'amore di Dio verso il tuo cuore Preghiamo 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 Grazie. 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 tra loro, uomini e donne, di ogni condizione e di ogni continente. A tutti Teresa rega la sua personale conferma che il mistero cristiano in cui è diventata testimone l'Apostola facendosi nella carriera, come è la sua.